E' un onore e un piacere avere ai microfoni di S1 TV il vice campione del mondo coach Davide Mazzanti con la nazionale femminile di volley e oggi un'occasione importante qui a Soverati in questo Regional Day, un appuntamento importante per tutta la pallavolo calabrese direi in un momento dove il volley femminile tra virgolette la fa da padrone nel senso che è uno sport in ascesa possiamo dire in questo momento complici anche ai risultati della nazionale. Sì, anche se poi quello che sta facendo esempio il volley soverato è qualcosa che ha una gittata molto più lunga e credo che la nazionale abbia contribuito a fornire entusiasmo e noi stiamo cercando di condividere un po' quello che è stato il nostro percorso mondiale con tutti i allenatori e quindi sia dare spunti ma anche prendere entusiasmo perché credo che abbiamo bisogno gli uni degli altri. Una nazionale che è arrivata alla finale mondiale con un gruppo di giovani, importanti ma un gruppo di giovanissime, il volley soverato quest'anno ha scelto di disputare un campionato con tantissime giovani, alcune provenienti proprio dalla Club Italia, quindi facendo le debite proporzioni ci sono delle similitudini sul progetto, sta ottenendo ottimi risultati il volley soverato, lei ha avuto modo anche di conoscere il coach Bruno Napolitano, quindi volevamo un suo giudizio anche su questo campionato che sta disputando il volley soverato perché ci sono tantissime giovani interessanti che chissà un domani potrebbero essere alla guida di coach Mazzanti nazionale. Io credo che fare esperienza con delle giovani e fare il risultato sia qualcosa di incredibile e quindi se capita ovviamente è una cosa di cui andare fieri, ma anche se o la mia nazionale o il volley soverato avesse raccolto meno di quello che sta raccogliendo, non penso che il progetto vada così rivisto o modificato. Credo che l'esperienza a volte ha bisogno di un po' di tempo e se poi raccogliamo anche i risultati subito sia qualcosa di strepitoso, ma questa pazienza non ce la dobbiamo dimenticare quando abbiamo delle giovani con noi. Il presidente Matozzi in precedenza le ha fatto pubblicamente i complimenti per i risultati raggiunti, ma soprattutto ha detto per l'entusiasmo che ha saputo creare in Italia con l'avventura ai mondiali. Questo è a suo giudizio il merito ancora più importante. Ecco, da qui probabilmente si può ripartire non solo per i risultati ottenuti, ma anche per far crescere ulteriormente questo movimento. Sì, credo che il nostro modo di esprimerci sia in palestra sia in partita sia stata la cosa determinante e quindi credo che il nostro percorso debba continuare da lì, non da cosa abbiamo ottenuto, ma da come l'abbiamo ottenuto. Le parole del presidente mi hanno fatto molto piacere, soprattutto perché non di circostanza, ma sentite e questa cosa mi fa un enorme piacere e mi dà ancora più stimolo nel continuare questo percorso. Regional Day oggi qui a Soverato, un'occasione importante di formazione non solo per la pallavolo calabrese, siamo con il presidente regionale della FIPA, Carmelo Sestito, un'occasione importante di formazione con un ospite d'eccezione, l'allenatore della nazionale femminile vice campione del mondo con Cimazzanti, quindi è un'opportunità anche per tutti voi e per gli allenatori calabresi di confrontarsi sull'aspetto tecnico ovviamente e non solo della pallavolo. Certo, è sicuramente una giornata importante, anche la scelta di Soverato è stata strategica e un premio che merita il presidente Matozzi e la sua società che stanno lavorando da tanti anni per portare finalmente un ritorno della 1 femminile in Calabria. Davide Mazzanti è già il secondo anno che viene lui personalmente qui da noi, tiene molto a nostra regione e con l'entusiasmo suo e i successi di questa nazionale femminile che ha fatto impazzire tutta l'Italia, anche non parte di pallavolisti italiani, sicuramente lascerà dopo queste due giorni delle tracce importanti dei nostri allenatori che potranno poi seminare nelle proprie cittadine e società. Lei in qualità del ruolo che ricopre sicuramente il termometro della pallavolo in Calabria, non solo femminile anche maschile ovviamente, quale stato di salute attraversa la pallavolo calabrese che sappiamo che oltre alle realtà di Serie A come Tonno Callipo, La Mezzia, Corigliano e Soverato ha comunque un movimento anche giovanile importante con tante società che fanno settore giovanile. Sì, è un movimento assolutamente fresco, vivo, che la Sicilia ci invidia, la Sicilia è una regione storica per la pallavolo nazionale, in questo momento ci invidia perché dietro queste società di Serie A, che al momento sono solo tre, c'è tanto lavoro da parte dei tecnici, dei dirigenti appassionati. Il nostro problema che piano piano stiamo cercando di superare è quello dell'impiantistica sportiva dove siamo purtroppo in una situazione difficile, ricordiamoci purtroppo che la Calabria è la prima regione in Italia per scioglimento di amministrazioni comunali per infiltrazioni mafiose, quindi i commissari quando arrivano fanno il loro dovere al 100%, magari qualche amministratore è più elastico in certe situazioni di permessi provvisori per far giocare alle squadre. La Mezzia abbiamo avuto la triste esperienza un anno e più senza impianti, la Serie A che sta rischiando appunto di scomparire, la Serie B anche, quindi speriamo di riuscire con queste nuove leggi anche dello Stato ad avere dei finanziamenti, avere un palazzetto assoverato, uno a Castrovillero, uno alla Mezza, come ci sono buone speranze di averli.